Marta è una ragazza piena di coraggio Con la laurea in tasca sta alla gas e batte il prezzo Scende ancora in piazza, crede nell'impegno Esce con l'amica e si è pagata anche l'affitto Peppe cerca un sogno nel gioco d'azzardo Nei cantieri sgobba e quando torna a casa è stanco Oggi è più contento perché ha fatto ambo Porterà sua moglie a cena fuori per un giorno A testa alta gli eroi della giornata A testa alta conquistano la vita Fieri come fiori cresciuti sulla strada A testa alta comincia un'altra sfida Nadia è una donna che si asciuga gli occhi Stacca dal call center, stende panni e lava i piatti Non ha più il compagno ma nei suoi tre figli Trova quella forza che la fa andare avanti Mario ha quattro denti ma sorride spesso C'è chi dice è furbo e chi lo crede è solo matto Parla un po' con tutti e grida Sono ricco finché al mare il vento e questo cielo come detto A testa alta gli eroi della giornata A testa alta e passa un'altra sera Tra una piazza e un bar che non chiude quasi mai Banche con froro, sale, slot e benzinai Schiere di serrande, di lampioni e falsi dei Centri commerciali e succursali di usurai Nei giardini verdi circondati da ringhiere Tra le paraboliche e le croci sulle chiese Bande criminali, comitati di quartiere Gente che resiste e che continua a camminare A testa alta gli eroi della giornata A testa alta conquistano la vita Fieri come fiori cresciuti sulla strada A testa alta comincia un'altra sfida Buongiorno Buono, lo so, bella per te Vediamo chi lo dice nel prima Bentornati, siamo all'undicesima puntata di A testa alta Il nostro settimanale di approfondimento Sulla Roma sociale e culturale Una trasmissione che era iniziata per scherzo Alessandro Ma noi la facciamo ancora così Con questo spirito goliardico No, lo spirito è sempre quello Però io ricordo all'inizio ci potevamo in un bar Per decidere tutti insieme se valeva la pena Imbarcarsi in questa avventura Mi pare che all'undicesima puntata possiamo dire Ne è valsa la pena Forse ne è valsa veramente la pena Sono stati quasi 60 gli interventi radiofonici Tra lavoratori, operatori sociali, operatori culturali Comitati di quartiere che hanno in qualche modo Impreziosito Radio Roma Futura punto it E quindi anche la nostra trasmissione a testa alta E non ci accontentiamo eh Andiamo avanti Sì, ci piace pensare che forse fino a fine maggio Fine giugno adesso decideremo Fino a quando andare avanti Lanciamo un sondaggio Ma si può anche immaginare Si può anche immaginare Fino a quando ci volete ascoltare e sentire Prima del sommario Che a me piace tanto Tu sai che lo scrivo con tanta Ah sì sì Con tanta dovizia E naturalmente di una chiacchierata E di aggiornamento Perché abbiamo preso anche questa bruttissima abitudine Di leggere i giornali e la cronaca di Roma Prima della nostra O comunque nel mezzo della nostra trasmissione Ricordiamo che a testa alta vai in onda dalle 9 alle 11 su www.radioromafutura.it Che potete scriverci Assolutamente Ci potete scrivere al nostro indirizzo email Roma a testa alta Chiocciola gmail.com Ma scriverci anche sul nostro numero whatsapp 320 69 22 565 Scriveteci se volete suggerire dei temi da affrontare in puntata Se avete dei suggerimenti di cose da trattare O semplicemente volete dire la vostra Su un tema che sta caratterizzando le cronache della nostra città Noi siamo qui e ne parliamo insieme Io penso che oggi comunque ci scriverà Mario Ti ricordi c'è sempre questo signore di Centocelle che ci scrive Di Centocelle esatto Esatto E siccome parleremo del parco di Centocelle Io mi auguro che Mario sarà Ed è sicuramente in ascolto Ci manderà un messaggio Mario se ci sei mandaci un messaggio Ma magari adesso sta facendo colazione adesso Ah non lo so guarda I suoi messaggini arrivano comunque puntuali ogni puntata Quindi sarei contenta se oggi Diciamo fosse interessata ad un tema Che è specifico del suo Del suo municipio Da che iniziamo? Io farei Guarda perché siccome la scorsa settimana abbiamo fatto una puntata ricca E quella di questa settimana non è da meno Assolutamente Io volevo Diciamo noi facciamo il riassuntino della puntata precedente Perché lo facciamo? Per ringraziare anche chi gratuitamente E diciamo dedicando a noi Il tempo Impreziosisce questa trasmissione E nella scorsa puntata Non solo ma anche per dare la possibilità A chi magari la settimana scorsa Si è perso qualche pezzo Fra lavoro, collegamenti e quant'altro Noi gli ricordiamo Che ci sono dei temi sempre aperti O delle vertenze Come quelle che abbiamo ascoltato la settimana scorsa Sempre aperte sulla nostra città Ed è giusto insomma ricordarne In maniera costante ciò che succede E poi siccome siamo una radio online www.radioromafutura.it Radio Libera e Antifascista Si può anche diciamo riscaricare il podcast della puntata precedente Ed è per questo che noi ricordiamo a tutti Che la scorsa settimana abbiamo parlato con la Caritas Per capire chi sono i nuovi poveri di Roma E come mai i numeri sono in costante aumento Ci siamo fatti anche grandi risate con Andrea Novelli Sulla campagna della liberazione Che ci ha raccontato insomma le difficoltà Con le quali questo Gran Premio è stato organizzato E salvato in extremisto l'intervento del governo Che ha fatto sì che si potesse disputare anche quest'anno La settantaduesima edizione del Gran Premio della Liberazione Sì se pensi che è un Gran Premio Che è nato immediatamente dopo la guerra E diciamo è un po' anche il simbolo A Roma c'è sempre stata la corsa per la liberazione Diciamo faceva un po' dispiacere non vederla Non vederla nella programmazione Abbiamo dato la voce a Troni Sono quasi 300 i lavoratori coinvolti Nella chiusura dei 7 punti vendita Con noi c'era anche un pezzo di sindacato E poi siamo andati all'esquidino Con il solito giro diciamo nei municipi di Roma Perché è proprio Cioè noi perché abbiamo immaginato questa trasmissione Perché noi vogliamo dare voce ai nostri eroi della giornata Come ci ricorda Emilio Stella Nella sigla di apertura e di chiusura della nostra puntata E quindi che facciamo Andiamo a cercare chi nella nostra città Tutti i giorni si impegna nel suo piccolo Perché poi non c'è bisogno di fare grandi cose Per cambiare la giornata di chi ci sta vicino E si impegna con il suo comitato di quartiere Con la sua associazione Con quello che può fare nella giornata Per dare un contributo anche a migliorare la nostra città Perché insomma molto spesso sentiamo Chi si impegna nel parco sotto casa Chi si impegna nella sua associazione culturale Per offrire servizi Quindi insomma Di storie belle ne stiamo raccontando tante Sì e poi quando apriamo i giornali Come stiamo facendo da qualche puntata A questa parte ci rendiamo conto Che mentre noi raccontiamo storie di persone Che a testa alta diciamo così Affrontano le sfide dei propri quartieri E dei propri territori C'è qualcuno che si tuffa a testa in basso No ma la cosa è allucinante Roma si tuffa nudo nella fontana di Trevi Bloccato dai vigili dovrà pagare una multa Però la fontana di Trevi ce l'ha questa cosa Che gli evoca qualcuno Qualcuno suggerisce sempre l'idea di buttarsi in acqua Per fare un bagno e una nuotata Perché ho visto le immagini Lui faceva una bella nuotata In stile rana devo dire Anche con il suo perché Sì dopodiché Io rimango basita di due notizie Il primo è che questo soggetto Perché così lo dobbiamo chiamare Si è gettato nudo Nella fontana di Trevi Alle tre di pomeriggio Con la piazza piena di turisti Che hanno inneggiato Come se avesse compiuto Una cosa bella Cioè è bello Beh dai Però mettiti anche nel panno Nei panni Nel panno è complicato Nei panni forse è meglio Del turista straniero Che magari si trova a fontana di Trevi Così per sbaglio Tava in mezzo all'acqua qualcuno La prima reazione è quella Della coliardia Di incidarlo Poi magari se ti fermi Tre secondi a ragionare Che sta facendo Magari te ne rendi conto No io mi metto nei panni Però di un cittadino romano Perché lì saranno scattate Foto e video Assolutamente E mi dispiace Per la nostra città Perché l'immagine Che andrà in giro Per il mondo Sui social È di questo ragazzo Che si riveste È della fontana di Trevi Oltraggiata Da un personaggio Che non so come definire Che si è addirittura Spacciato per straniero Quindi ha dato generalità false Invece è un ragazzo Di nazionalità italiana I cui documenti sono stati Diciamo Che era in possesso Di una carta di identità rubata Adesso Io Cioè la guliardia Per carità di Dio A volte fa anche simpatia Però diciamo Il rispetto Per i grandi monumenti romani No? Perché se giustifichiamo questo Allora giustifichiamo anche La turista Che ha scritto il nome Del marito e della figlia Sopra il Colosseo E allora Ci sono dei limiti In cui anche la guliardia A cui anche la guliardia Deve Secondo me Adeguarsi Sono un po' rigida Però No 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 Ma io sono assolutamente D'accordo con te Diciamo che Trovavo più naturale Ecco La reazione Di qualche turista Che magari Insomma Ha preso così Alla sprovvista Ha pensato Che fosse una simpatica Goliardata Senza poi ragionare Insomma Su tutto quello Che dici giustamente Tu possono essere Le conseguenze Di un gesto del genere Per una società Così importante come io Ma anche perché Poi il messaggio che passa È anche un altro Ma non c'è nessuno A controllare Che dentro la fontana Non si butti nessuno E succeda quello che è successo Evidentemente no No io poi mi chiedo Questo dove si è spogliato Cioè dove si è spogliato In mezzo alla gente Nelle famose cabine Spogliatoie Non c'è nessuno Non c'è nessuno che controlla Io adesso Rispetto del lavoro Di tutti Però obiettivamente Se si arriva A gettarsi nudi Dentro una delle fontane Più importanti D'Italia Forse anche del mondo Vuol dire che No La cosa non è stata presa Non è stata presa Per il tempo No Crisi? Vogliamo parlare di crisi? Ma non lo so Perché io c'erano altre due cose Che ti volevo Ti volevo sollecitare La prima è che Non so se hai letto Mentre scrollavi La pagina Mi sembra di Repubblica Che il grande raccordo anulare È la strada più trafficata Di Italia Sì c'è questo articolo Di Flaminia Savelli Dice L'anello del raccordo anulare Ha raggiunto il record Record naturalmente Anas Il 24 marzo scorso Quando sono stati registrati 168.401 Veicoli in transito Perché leggevo il numero 168.401 Veicoli in transito Ed è lo stesso Identico numero Degli abitanti In quindicesimo municipio Quindi è come immaginare Che l'intero Quindicesimo municipio Si trovasse Contemporaneamente Sul grande raccordo anulare Pensate che Spana situazione No però Obiettivamente sì È la strada più trafficata D'Italia Cioè i romani Sanno che quando Entrano nel grande raccordo Sanno quando entrano Ma non sanno quando escono A qualsiasi ora Della giornata Sembra un girone Nantesco E poi c'è L'apertura Io volevo parlare Anche un po' Di crisi Perché questa roba Insomma un po' Ci preoccupa Come cittadini di Roma Sì anche perché Oggi non c'è Giorgio Che salutiamo Senza di lui Qualcuno deve pure Tirare in ballo La questione politica Tu però sai che io Non ho lo stile Di Giorgio No assolutamente Quindi diciamo Mi preoccupo solo Come cittadina romana E non faccio Diciamo critica Politica Che ha altre sedi E altri momenti In cui diciamo Si può esprimere Però c'è un'apertura Importante Per tutti i cittadini romani Di Simone Canettieri Dove dice Roma Lo scudo del Movimento 5 Stelle Per la Raggi Se c'è il processo Il processo naturalmente A seguito Dell'avviso di garanzia Per le nomine Si va avanti E qui diciamo Si apre Una grande contraddizione Del Movimento Ma sì Ma perché non è possibile Che questo garantismo Va un po' A corrente alterna No? Non c'è Giorgio Oggi un po' di polemica La faccio io Perché insomma Se uno è garantista Come è giusto Anche essere Perché insomma In Italia Fino a che non arriva L'ultimo grado di giudizio Si è innocenti Allora voglio dire Non si può Ogni Un giorno sì E l'altro nostro Strillare Alla trasparenza All'onestà E poi quando tocca A noi Fare finta Che invece Non sia così No a me dispiace un po' Perché Diciamo Il garantismo È a garanzia Però a delle persone Su cui si fa Un'indagine Nel senso che Un avviso di garanzia È a garanzia Della persona Che lo riceve Esattamente E abbiamo un po' Perso anche il senso No? Dei codici Delle leggi E del perché Esistono alcune garanzie Nel senso che poi Le persone Hanno anche diritto A presentare documenti E testimonianze A loro difesa Per dire No? Giusto che mi indaghiate Giusto che la magistratura Faccia la sua parte E giusto anche Che come cittadino Io mi possa Difendere Naturalmente Se Diciamo Ci sarà Un rinvio a giudizio Io credo Che a Roma Si aprirà Una piccola Grande Crisi E questo Vorrà dire Di nuovo Instabilità Per la nostra città Vorrà dire Ancora Servizi Che ritarderanno Diciamo A soddisfare Le esigenze Dei nostri cittadini E quindi Una nostra qualità Della vita Un po' Più Scarsa Io sono Sostanzialmente Preoccupata Preoccupata Di questo Diamo Una piccola Buona notizia Perché siamo A Pasqua Eh si Perché a Pasqua A Pasqua C'è un A Pasqua Insomma Musei Averti Sia di domenica Che di lunedì Weekend d'arte Quindi della nostra città Insomma Ci sarà anche Un'apertura notturna Sabato 15 aprile Ai fori imperiali E il mercato italiano Quindi insomma Se volete Andate E gustate Un'altra cosa Che però Mi sentirei